sovrappeso del cane. Come gestirlo? Perché il cane va in sovrappeso? Quando la sterilizzazione può influire? Allora, prendo spunto da un post fatto sul gruppo della Leismania da Liliana Gramegna. Liliana Gramegna ci racconta che ha il cane con Leismania sotto controllo e non necessita di cure, tranne il librela una volta al mese, vuol dire che prende un farmaco per i dolori articolari, ma la sua domanda è dovrei farlo dimagrire, mi hanno prescritto un determinato mangime, c'è una dieta che potrei fare rispetto a un'altra? Questo è un problema che hanno ormai molte famiglie. I cani sono in sovrappeso. Perché i cani sono in sovrappeso? Succede sì, succede. Allora, i cani sono in sovrappeso, uno per delle particolarità di razza, cioè cani come i levrieroidi difficilmente riescono ad andare in sovrappeso perché hanno una capacità di gestire le calorie in eccesso molto meglio rispetto per esempio a un labrador. Il labrador o il beagle facilmente va in sovrappeso. Lo stesso sembrerà strano il border collie è un cane che se si muove poco facilmente va in sovrappeso. Perché c'è questa differenza? Il primo motivo è la capacità di utilizzare le calorie in eccesso. Come con gli esseri umani, l'animale ingrassa quando gli forniamo più calorie di quelle che ha bisogno. Quindi se un cane ha bisogno di mille calorie e gliene do mille cinque ha più calorie e quindi potrebbe l'organismo stoccarle per un utilizzo futuro come le stocca dentro il grasso e quindi ingrassa. Perché il levriero se gli dai mille calorie e ne necessita cinquecento quindi gliene dai cinquecento in più non ingrassa? Perché i levrieroidi hanno una muscolatura molto potente, tantissimi mitocondri che sono le centrali energetiche del corpo, se gli dai più calorie trasformano l'eccesso calorico in calore come avere un motore che se ci metti più benzina al minimo si accelera un po'. Questa accelerazione te la dà come calore. Infatti ci sono esseri umani, tutti abbiamo il compagnetto o l'amico che si mangia due vetri di pasta e non ingrassa e poi c'è chi deve fare i conti con mezza pizza o deve fare i conti con un biscotto in più. Le persone che tendono ad ingrassare come i cani mangiano molto e quello che fanno è trasformare questo eccesso calorico in parte in calore e lo disperdono. Lo stesso vale per i cani. Il bigolo ha difficoltà insieme al labrador e insieme ad alcune altre razze a gestire l'eccesso di calorie. Se gli dai più calorie del normale tende ad accumularle. Ora cosa possiamo fare? Uno va calcolato che tipo di che tipo di animale stiamo parlando. Nel caso della nostra amica parla di un volpino. Un volpino è un animale che tende molto ad ingrassare rispetto a un cane cosiddetto d'oligomorfo, un cane magro. Quindi ci sono da tenere a mente alcuni pilastri. Uno, dobbiamo calcolare quante calorie questo cane deve assumere e attenerci più o meno a queste calorie. Se deve assumere un po' più di calorie perché gli diamo più premi del normale dobbiamo preferire alcune premi rispetto a un altro perché perché se tutti oggi conosciamo le calorie se io gli devo dare 100 calorie in più è diverso se gliele do come grassi, come proteine, come carboidrati e anche all'interno delle stesse tipologie cambiano. Cosa vuol dire? Se io gli do 100 grammi di proteine nobilissime e gliele do possibilmente al ritorno della passeggiata queste non lo faranno ingrassare. Perché? Perché le proteine, specialmente dopo la passeggiata, andranno a compensare quei consumi che ci sono stati. Se io gli do 100 grammi, cioè 100 calorie di carboidrati dopo un lungo riposo e senza poi fare nessun tipo di movimento, quelle verranno tutte trasformate in grassi. Perché? Perché il corpo è a riposo, non sta consumando nulla, ha un suo equilibrio. Se gli diamo 100 grammi di 100 calorie sotto forma di zuccheri farà alzare la glicemia. Appena la glicemia si alzi il corpo vede questo eccesso di energia diceva cosa ci devo fare? Lo stocca in grassi. Se gli do 100 grammi di grassi per esempio è diverso se gli do del burro di cocco da un olio di semi, dall'olio di oliva, dal burro per esempio di animali allevati. Perché? Perché per esempio il grasso di cocco è costituito per lo più da esteri a corta catena, da grassi a corta catena, che una volta entrati nel corpo non vanno a farsi depositare all'interno degli adipociti, cioè nel tessuto adiposo, ma vengono processati dal fegato e vengono trasformati in molecole utilizzate poi dal corpo e in parte vengono trasformati in calore perché utilizzati direttamente da mitocondri. Questo è il motivo perché ci sono molti studi, specialmente in medicina umana, che l'olio di cocco possa essere utilizzato come grasso per gli esseri umani e addirittura favorisce il dimagrametto. Quindi, uno, quante calorie deve consumare questo cane? Bisogna calcolarlo, l'amica chiede una dieta ma prima dobbiamo partire dal suo consumo calorico di base. Due, calcolare il suo movimento perché possibilmente si muove troppo poco e facendogli fare 10-20 minuti in più di passeggiata aumentiamo il suo consumo, quindi possibilmente non dobbiamo ridurre il cibo e dobbiamo solo aumentare il suo consumo. Tre, che tipo di nutrienti gli stiamo dando e quando glielo stiamo dando. Quindi qualità e quantità e tempo. Ora, tutto per dire che sì, viene facile dimagrire se sai come fare nel cane, io magari negli esseri umani non lo so fare, ma nel cane è il nostro lavoro, ci vuole un nutrizionista che vada oltre la composizione di una dieta con un calcolo matematico, ci vuole quello che si chiama nutrizionista olistico, cioè che prenda il cane come un'entità unica fatta da quattro cose, ma che sono cose basilari, stile di vita, razza, tolleranza agli alimenti. Quindi, spero di averti dato un input, quello che ti posso dire è se vuoi o se qualcuno di voi guardando questo video ha questi problemi, contattate il centro di telemedicina e sapremo come aiutarvi. Vi mando un super bacio.